Un giorno al sole, sì, uno qualsiasi dei tanti che abbiamo dovuto... Ma anche quello di oggi è proprio un giorno veramente al sole, ci vogliono bene anche quest'oggi. Picchia. Qui con noi c'è già un altro, un ospite, un graditissimo ospite, abbiamo con noi Claudio Bolcato che è il presidente diocesano di Azione Cattolica. Tanto ben trovato, poi Claudio ci racconterai anche la tua storia. Prima di capire un po' meglio, cioè per addentrarci in questa realtà grande che è l'Azione Cattolica, noi vi abbiamo preparato una scheda per i pochi che ancora appunto non la conoscessero. La vediamo assieme. È la più antica, ampia e diffusa tra le associazioni cattoliche laicali d'Italia. Stiamo parlando di Azione Cattolica, una realtà importante nata nel lontano 1867 quando due giovani universitari fondarono a Bologna la Società della Gioventù Cattolica Italiana. Il loro motto era preghiera, azione, sacrificio, quattro, i principi fondamentali, l'obbedienza al Papa, sentire come ecclesia, un progetto educativo fondato sullo studio della religione, la vita secondo i principi del cristianesimo, l'impegno alla carità verso i più deboli e i più poveri. L'associazione cresce rapidamente e nel giro di pochi anni si diffonde nelle parrocchie di tutta Italia. Nel 1905 Pio X pubblica l'enciclica Il Fermo Proposito, con la quale promuove la nascita di una nuova organizzazione laicale cattolica che prende il nome di Azione Cattolica, che diventa una realtà importante all'interno della Chiesa e delle parrocchie italiane. Dopo gli anni bui delle due guerre mondiali, grande il contributo offerto da ACI per la ripresa e la ricostruzione del nostro paese. La forza di questa realtà era, ed è ancora oggi, la sua presenza capillare e soprattutto la proposta formativa, un patrimonio di esperienza importante per la Chiesa, che vive e respira la centralità di ciascuna realtà diocesana e parrocchiale. Claudio Bolcato, presidente diocesano di Azione Cattolica. Cosa significa per te, anzitutto, questo luogo? Tutto è partito da qui, forse, Casa San Giovanni in Lofa. Cosa significa per te Azione Cattolica? Bene, buongiorno a tutti. Allora, Casa San Giovanni in Lofa è il luogo dove sono passate migliaia e migliaia di ragazzi, educatori, giovani e adulti nel corso degli anni. Ci sono passato anch'io da bambino, tanti, tanti anni fa, e ci sono ritornato poi da educatore e da responsabile diocesano. È il luogo che si trasforma ogni anno, diventa un castello, diventa una casa in cui si vivono esperienze di fede, esperienze di amicizia, esperienze di servizio intense, esperienze che ti cambiano dentro un po' alla volta. Claudio, vedevamo nella scheda, insomma, una storia importante, quella di Azione Cattolica, che nessuno non conosce, però spieghiamo bene. Azione Cattolica, tra l'altro, annovera nella sua storia anche dei Santi. Adesso a me viene in mente Pier Giorgio Frazzati e Beretta Molla, come è che si chiama? Bianca Beretta Molla. Però non è un'associazione, non è una realtà. Raccontaci bene, cos'è Azione Cattolica all'interno della Chiesa, per quei pochi che non lo sapessero? Beh, Azione Cattolica oggi è fatta da tante persone normali, persone che vivono la quotidianità nelle loro comunità, vivono esperienze di fede, di impegno sociale, di impegno nelle parocchie. Sono persone esigenti da un punto di vista della formazione, che chiedono e danno formazione. Attente a tutti gli aspetti legati all'educazione, però sono persone anche e soprattutto attente alla relazione e al gruppo. Una delle cose che ci piace dire è che in Azione Cattolica le cose si possono fare da soli, però in gruppo si fanno meglio. E soprattutto siamo liberi da segni distintivi, ci sentiamo liberi di esprimerci come laici all'interno della Chiesa e della società. Senti, per Verona invece la storia di Azione Cattolica e Azione Cattolica Ragazzi? Beh, per Verona è una storia lunga che corre parallela alla storia dell'Azione Cattolica nazionale e corre parallela alla storia di tutta la città di Verona e della comunità. È una storia che ha avuto alti e bassi, come tutte le storie, che però è continuata nel tempo con regolarità. La CR poi è dagli anni 70 che funziona, operativa in tante parocchie, offre il suo servizio in affiancamento al catechismo e alla formazione tradizionale dell'Associazione. Un anno fa il Papa vi ha incontrato e vi ha dato tre verbi, agire, rimanere, andare e gioire. Come voi li avete declinati qui a Verona con le vostre attività, con il vostro impegno? Beh, questi tre verbi arrivavano alla fine di un percorso nazionale, abbiamo fatto l'Assemblea nazionale con l'elezione dei nuovi responsabili. A Verona li abbiamo subito recepiti all'interno delle nostre linee triennali, per cui sono diventati un programma triennale di impegno. Proprio con questa scansione, rimanere, andare e gioire. Con quest'anno abbiamo concluso la prima di queste parole, rimanere andando a visitare i luoghi della fede di Verona. Con l'autunno inizieremo con la parola andare, anche se il percorso ha tutto un unico sviluppo. Ed è un riprendere le idee associative, l'idea di chiesa, gli orientamenti pastorali della chiesa veronese e rideclinarli in chiave missionaria. Casa San Giovanni in Loffa, qui alle nostre spalle. Da poco ristrutturata, due anni fa, 2012, l'inaugurazione della nuova sede alla presenza del Vescovo. Tanti sono i ragazzi, gli adulti come citavi tu, pocanzi che sono passati e che tuttora sono legati a questa realtà. Una casa che ospita però anche altre realtà, altre associazioni per corsi di formazione, anche per altri campi. Diciamo che da questa casa passano, nei due mesi estivi che la utilizziamo come azione cattolica, circa 1.500-1.800 persone, moltiplicate per il numero di anni che è in piedi e creiamo veramente un numero importante per la diocesi. Poi noi la diamo in utilizzo a tutte le parocchie e le associazioni che ce la chiedono purché rispettino una semplice finalità, formazione, fede e amicizia. Questo è il motto della casa e sono le richieste che facciamo noi alle parocchie di venire qui per fare esperienze formative, esperienze di fede forti e di vivere la relazione e l'amicizia. Un po' come ha detto prima anche il professor Raccetti. Allora andiamo insieme a vedere la scheda che abbiamo realizzato, che la nostra regia ha realizzato, per farvi vedere meglio questa casa. Casa San Giovanni in Loffa, fin dalla sua costruzione, è stata interamente dedicata all'organizzazione di attività ed esperienze che permettessero ai giovani di crescere grazie a una formazione civile e religiosa. Anche oggi la casa ospita molte attività estive ed invernali dell'azione cattolica, oltre che moltissime esperienze e proposte formative di parrocchie, interne ed esterne alla diocesi, che la ricercano proprio per fare attività con i ragazzi e i giovani. Nei campi scuola confluiscono ragazzi ed educatori da diverse realtà e nello stare assieme si rivelano un'occasione di incontro e di crescita preziosa e particolarmente significativa per i partecipanti. Monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, per promuoverne la ristrutturazione nell'anno 2010, scrisse, fedele alla propria storia e soprattutto alla propria inconfondibile identità, l'azione cattolica si contraddistingue tuttora per la passione educativa e una riconosciuta valenza formativa. Questa continuerà a essere una delle sue peculiari caratteristiche. A sostegno di tale e insostituibile servizio alla Chiesa e alla società, sono sorti nel tempo alcuni luoghi ai quali fare riferimento, come vere e proprie palestre di formazione. La casa di San Giovanni in Loffa è sicuramente una di queste. Generazioni di ragazze, adolescenti e giovani hanno trovato lì il luogo nel quale crescere in umanità e fede. Schiere di educatori hanno dato il meglio di sé per accompagnarli. Adulti, convinti e convincenti, si sono messi semplicemente a servizio, lì dove maggiore si presentava il bisogno. La casa è stata interamente ristrutturata e inaugurata nel giugno 2012 ed è usata prevalentemente per i campi scuola diocesani di azione cattolica da fine giugno a inizio settembre. Per il resto dell'anno è possibile prenotare per gruppi o associazioni per svolgere attività formative come ritiri spirituali o weekend essendo in autogestione con una disponibilità fino a 92 posti letto comprese le stanze per il personale di servizio. Prima di salutare il nostro ospite Claudio Bolcato, senti, cosa sta dietro l'organizzazione di un campo? Quanto tempo si inizia prima a preparare tutto quanto? La preparazione dei campi estivi è una macchina che non si ferma mai. Si inizia a gennaio con la rivisitazione dei cammini fatti, la scelta dei temi, l'individuazione di responsabili, personale della cucina, animatori eccetera. Ci sono tutti gli incontri di preparazione nella primavera, i campi estivi in estate e settembre-ottobre dedicati alla revisione e alla riprogrammazione dei campi successivi. Insomma, una macchina che non si ferma mai. C'è lavoro per tutti, perché in cucina si lavora dalla mattina alla sera, poi ci sono i ragazzi di servizio, gli animatori, insomma tutto... Non ci si annoia. Non ci si annoia sicuramente e le richieste sono sempre maggiori sia di impegno che di proprio gestione anche della casa in termini di sicurezza, in termini di attenzione ai dettagli. Però, insomma, penso che un grande ringraziamento lo dobbiamo fare a tanti giovani di Azione Cattolica che dedicano proprio anche ore e ore, per non dire settimane e mesi, su questo tipo di lavoro.